Formazione di un nuovo blando minimo sul mar Ligure a causa del transito di una saccatura a nord dell'arco alpino. Lunedì approfondimento di un minimo sul Golfo Ligure, con intenso flusso di correnti di Libeccio. Domenica 17 marzo in Toscana, nuvoloso per nubi basse più consistenti nell'interno e in particolare sulle zone di nord-ovest, dove saranno possibili locali piogge. Venti moderati da sud-sud-est, ma rimossi in particolare a nord dell'Elba, temperature minime in aumento e massimi in leggero calo. Sul Lucca cielo parzialmente nuvoloso. A Lucca temperatura minima 8, massima 16 gradi. A Castelnuovo minima 2, massima 17 gradi. A Viareggio minima 10, massima 17 gradi. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio